L'Africa ha tanti problemi, ha tanti drammi, però l'Africa ha anche la gente che canta, che danza, ma soprattutto ha una società civile che si sta organizzando, sta resistendo e sta facendo dei passi da gigante. Domani ne parleremo parlando dei giovani in Africa al convegno che faremo qui, ma vorrei ricordarvi solamente per coloro che per caso domani non ci fossero, che in quest'anno in Africa stanno avvenendo e sono avvenute delle cose molto importanti. Ne cito due in maniera particolare, ultimamente le elezioni in Mauritania dove per la prima volta si è votato dopo l'indipendenza e quindi una transizione pacifica alla democrazia e poco prima il grande evento delle elezioni del Congo dove dopo dieci anni di guerra e quarant'anni di dittatura il popolo ha voluto riprendere in mano la sua storia, ha avuto la capacità di auto-organizzarsi e la capacità di domandare alla comunità internazionale, ai suoi capi, a tutti, domandare quel diritto che è di tutti, che è il diritto alla democrazia. E allora facciamo festa a quest'Africa e il senso di questo concerto è un po' questo, però questa festa non può essere assolutamente non mediata dai drammi che nel continente ci sono. Noi parliamo di speranze dei giovani africani oggi e mentre parliamo di questo vediamo la disperazione di tanti giovani che scappano, che hanno la sfrontatezza di fare viaggi e peregrinazioni enormi prima nel deserto, poi di prendere queste barche della speranza, questi gommoni della speranza e della disperazione, quanta gente è morta lungo la strada, il Mediterraneo è diventato ormai una tomba a cielo aperto. E noi abbiamo voluto dedicare questo incontro e anche questo concerto a due bambini, due ragazzi guineani che nel 1999 sono stati trovati nel carrello di un aereo che era partito da Conakry, sono stati trovati morti nel carrello di un aereo a Bruxelles. Nella tasca di uno di questi ragazzi c'è una lettera, questa lettera verrà letta durante il concerto, ho chiesto a Papa, spero che lo abbia fatto, ma sono sicuro che lo ha fatto, di farla leggere e di accompagnarla con la musica, la musica struggente dei greofricani, la musica struggente piena di disperazione ma anche di speranza che ci viene dall'Africa. Bene, quest'Africa che viaggia tra speranza e disperazione oggi ci interpella ancora una volta. Io vi chiedo, facciamoci interpellare davvero, facciamoci interpellare cambiando la nostra testa prima di tutto e il nostro cuore, se sapremo incontrarla con la testa, cioè senza farci prendere da emozioni solamente, ma guardando la realtà scopriremo la grande positività e il grande messaggio che dall'Africa ci viene. Se sapremo capirla con il cuore, dal momento in cui l'abbiamo incontrato non la lasceremo più. E questa è un po' la fine di tutti quelli che ad un certo punto, onestamente, guardandoci negli occhi con gli altri, con gli africani in maniera particolare, si avventurano in questo viaggio di conoscenza e di amicizia e di amore vicendevole. L'Africa ha qualcosa da dirci, l'Africa ci chiama e noi la chiamiamo, l'Africa ci domanda di essere amata e noi vorremmo amarla, l'Africa ci domanda di fare gioia, di fare festa, di grazare alla vita e lo facciamo stasera con questo concerto. Grazie a Papa, grazie al gruppo dei Mandi, grazie a tutti voi che siete qui. Grazie a tutti. 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 perché prodisca, dunque se vedete che saccheggiamo e rischiamo la vita è perché soffriamo troppo in Africa e abbiamo bisogno di voi per lottare contro la povertà e mettere fine alla guerra in Africa, ciò nonostante noi vogliamo studiare e noi gli chiediamo di aiutarci a studiare per essere come voi in Africa e fine vi suppliciamo di scusare moltissimo per aver osato scrivervi questa lettera in quanto voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto spesso e non dimenticate che è con voi che noi dobbiamo lamentare le debolezze della nostra forza in Africa Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti.